In questo luogo, la mia famiglia, i miei figli, la mia madre, siamo molto felici, siamo molto felici. Lei arriva da Kharkov, dove la città è stata distrutta totalmente, per cui per adesso non intravedono un futuro e lei è un medico. Nella stessa situazione anche Tonia, felice di presentarci la sua famiglia. Now we are fine, I'm here with my son, my daughter and my mother-in-law. Tonia è qui con sua socia e i figli Vadim e Valeria, mentre suo marito è rimasto in Ucraina. Purtroppo loro vivono a Kiev e in questo momento sembra, però tutti i giorni, almeno 3-4 volte al giorno, anche sul cielo di Kiev, tirano qualche piccola bomba, mi diceva proprio ieri. E quindi ancora ripartire con i bimbi, anche se lei ci tiene moltissimo, loro ci tengono tantissimo, perché chiaramente il papà è là e loro non vedono l'ora di rientrare. Però è chiaro che se non prima c'è la certezza, adesso hanno la speranza di ieri, che era la Pasqua Ortodossa, e del 9, che è un po' la giornata che riprende la loro liberazione dalla loro democrazia. Per cui speriamo bene. E nell'attesa di ricevere notizie migliori, alloggiano qui all'oasi dell'accoglienza, diventata nel tempo una vera e propria famiglia delle famiglie. Maria Chiera, che fondò l'associazione esattamente 30 anni fa, oggi ha voluto lanciare un messaggio a cittadini e istituzioni. Abbiamo un totale di 21 persone in casa oggi, ce ne sono 12 dell'Ucraina, però abbiamo l'Italia e abbiamo l'Africa. Io mi auguro che veramente l'accoglienza, la liberazione, intanto che arrivi la liberazione anche dell'Ucraina, che tutti amiamo, speriamo, preghiamo e invochiamo dall'alto, ma la invochiamo anche per tutti gli altri paesi di cui non si parla mai. Noi che accogliamo anche l'Ucraina, anche gli ucraini, ci sentiamo però di sottolineare che gli africani non sono da meno, che gli indiani non sono da meno e che molti italiani non sono da meno. Per cui le difficoltà burocratiche, continue, per i permessi di soggiorno, per questo, per quell'altro, credo che siano state fatte due pesi e due misure, seppur felicissima, e lo rimarco, felicissima dell'accoglienza fatta agli ucraini. Ma questo bisognerebbe farlo per tutti, si porti alla mente, la libertà alla mente, di rendere libera sto fazzoletto di terra che c'è stato donato. E visto che c'è stato donato, è bene offrirlo, ma a 360 gradi.